Non sussistono le aggravanti dei futili motivi della premeditazione dell'efferatezza. Carola Penta, oggi 19enne, condannato a 18 anni di reclusione per l'omicidio del coetaneo Antonio Pascuzzo, avvenuto a Buonabitacolo nell'aprile del 2018. Ieri presso il Tribunale di Lago Negro si è tenuta l'ultima udienza con le discussioni delle parti. Pena dell'ergassolo, la richiesta della Procura che ha sostenuto la tesi, secondo cui l'autore dell'omicidio era capace di intendere e di volere, sostenendo anche le aggravanti della premeditazione dell'efferatezza. Aggravanti, che l'avvocato della difesa Michele Di Jesu ha poi smontato, evidenziando invece come la Penta, al momento dell'omicidio, si trovava in una condizione di incapacità di intendere e di volere, soffrendo di un disturbo mentale grave che ha influito sul comportamento e sull'azione delittuosa. I fatti risalgono all'aprile del 2018. Antonio Pascuzzo, il 6 aprile, esce di casa per non fare più ritorno. Di lui si perdono le tracce e si intensificano le ricerche con le telecamine della RAI che si interessano della vicenda. Il corpo di Antonio Pascuzzo viene rinveruto primo di vita dopo otto giorni in un fossato nei pressi della palestra comunale di Buonabitacolo, colpito da sei coltellate. Chiare le cause del decesso per i carabinieri, che dopo poche ore hanno fermato il coetaneo caro Lapenta, che ha confessato il delitto. All'origine del gesto ci sarebbero motivi legati alla droga. Antonio Pascuzzo, infatti, era già noto alle forze dell'ordine che pochi mesi prima lo avevano tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Secondo quanto emerso nell'ambito delle indagini, pare che l'autore del delitto voleva impossessarsi di un modesto quantitativo di droga nelle mani del Pascuzzo. Dopo poco più di un anno e mezzo di dibattimento per la richiesta da parte della difesa del rito abbreviato, ieri la decisione del giudice, che ha ritenuto fondate le posizioni avanzate dalla difesa sull'insussistenza delle aggravanti e ha ritenuto ammissibile l'ipotesi di semi-infermità mentale dell'accusato. Intorno alle 19 la Camera di Consiglio si è sciolta e il giudice ha esposto la sua decisione condannando Carol Lapenta a 18 anni di reclusione per l'omicidio di Antonio Alexander Pascuzzo. Cadute le aggravanti della premeditazione, dei futili motivi e dell'efferatezza su cui l'accusa aveva basato la sua richiesta di ergastolo. Grazie a tutti.